Non sei andato a casa? Scusa, ho rovinato il giorno di San Valentino. Esco con un medico. Sarei una sciocca se mi aspettassi qualcos'altro. Ma ti ho fatto un regalo. Il Massachusetts genera l'ospital di Boston. Vuoi diventare un'infermiera di primo livello? Quella è la scuola adatta. Ho fatto alcune telefonate. Se vuoi c'è un posto per te. Ecco perché mi hai aiutato a fare pratica in chirurgia. Per l'ammissione. Io credevo che volessi... Che stupido. Sei così intrappolato nel tuo ego che ti isoli dal mondo. Io mi avvicino e tu ti allontani. Ho condiviso molte cose con te. E questo è il motivo per cui vuoi lasciarmi. Non sopporti di essere amato. Wendy, credi che starei qui perché ti sei arrabbiata? Sono arrabbiata, è vero. Perché ci tengo a te. Ma tu questo non lo capisci, tu sei irrazionale. Proprio come quell'idiota del tuo capo.